Musica 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 Chi mi presta il telefono? Rikki Bravo Matto Dai Mirko Dai Edo esci Edo Bravo Attaccalo Rikki Attaccalo Torniamo Rikki aiutalo Rikki non aiutare Meno Lotto Lotto Vieni 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 Ehi dimmi Vieni Sto facendo il video L'ho messo in modalità aerea Stringi dietro Stringi dietro Stringi dietro Stringi dietro Non ho capito In teoria In teoria no In teoria dovremmo andare a mangiare tutti insieme a qualche parte Ma con te compresa Cioè tu che fai? Vieni al compleanno Vieni Vabbè allora ti avviso dopo che è finita la partita Cosa facciamo? Ciao ciao Sì Con la maiuscola Ok Ciao 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 Grazie Bravo Bravo Tommy Bravo Thomas Dai Ale Uno Ale Uno Uno Vai Tommy Vai Tommy Bravissimo Vai Tommy Wow Grande Buå Hehehe Hehehe Vedi Buå Cosa non tornare Matti Matti non sardini Matti non sardini meglio Occhio Tommy è di qua la palla Vai Ale Dai Leo eh Dai Tommy ci serve un altro gol Dai su Dai Mirko Gioca gioca Leo Fatti vedere Leo movimento Leo Leo fatti vedere Leo movimento Vai Alessio parti Alessio Parti Bravo 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 Gioca 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 Gioca